Piantumate le palme e pitturata da Ringhiera, continua l'iniziativa il Viale delle Terme Rivive che ieri pomeriggio ha visto all'opera i vari club service della città, con i loro componenti che pennello alla mano hanno ridato colore, il verde, alle Ringhiera ormai rovinate dalla ruggine. Si tratta del secondo step del progetto Terme che si propone come esperimento civico di impegno in prima persona dei cittadini saccensi senza distinzioni e contrapposizioni, un gesto di amore per la città, un recupero del senso di appartenenza. Il progetto mette insieme Rotary Club Shack, Gruppo WeHelp, Inner Wheel Shack Terme, Kiwainis Club Shack, Alliance Club Shack Host, l'associazione FIDAPA, tante altre associazioni e singoli cittadini. Nelle scorse settimane la piantumazione delle palme che sono tornate ad abbellire il Viale dopo che il punteruolo rosso le aveva decimate, ora la Ringhiera, quella che interessa la parte antistante e l'ingresso delle Terme. Infine, il 31 agosto il Viale delle Terme rivive diventerà musica con un concerto, il Combi Projects con Ediacursio Cortese. Una iniziativa che vuole mantenere accesi i riflettori oltre che su una zona della città che con la chiusura delle Terme ha smesso di essere luogo di ritrovo, di incontro per i cittadini e che mira a non lasciare al degrado e all'oblio questa parte incantevole di città e a riportare lì i suoi cittadini. Un gesto che i club service, dopo l'intervento di ieri pomeriggio, auspicano sia custodito da tutti i saccensi e che non venga abbanificato da atti di vandalismo e inciviltà. Resta ancora molto da fare, quello è certo, come ad esempio da sistemare la stessa Ringhiera che insiste alcuni metri più avanti, abbattuta e delimitata perché è pericolosa e interdetta ai passanti. Da fare lì ce n'è per molti e quello del Viale delle Terme Rivive è sicuramente un ottimo inizio.